Infinite le segnalazioni per le pessime condizioni igieniche del centro storico di Sernia, un degrado oramai generale che tocca anche i siti archeologici e monumentali. Basti guardare le immagini girate nei pressi delle statue sotto l'arco di San Pietro, oppure quelle riprese nello scavo vicino la fontana fraterna in piazza Celestino V. Un centro storico che dovrebbe servire da vetrina per la città di Sernia e che invece si sta trasformando in una discarica. Sì perché anche i rifiuti non mancano, abbandonati senza dubbio da gente incivile, ma neanche raccolti tempestivamente da chi dovrebbe farlo. E non parliamo poi delle condizioni della pavimentazione in Porfido. Le immagini girate vicino l'Osteria Paradiso parlano da sole. E a tutto questo bisogna aggiungere tutti i rifiuti e tutte le bottiglie lasciate in evicoli ogni notte. Insomma per il centro storico ci vorrebbe un intervento radicale straordinario, supportato da una pulizia delle strade e dei tombini che dovrebbe essere quotidiana. Per il momento solo speranze, anche se dal comune buttano acqua sul fuoco, facendo capire di avere gli occhi bendati. La pulizia con che frequenza avviene? La pulizia avviene nel centro storico con una frequenza giornaliera per quanto riguarda il centro storico, in più straordinaria per quanto riguarda il giovedì e il sabato che sono i giorni previsti del mercato. Se poi nei prossimi settimane potremmo anche aumentare e migliorare il servizio di pulizia delle strade, soprattutto in virtù della stagione estiva che ovviamente è nota soprattutto nel centro storico per una maggiore utenza e una maggiore frequenza. E per finire i topi, le condizioni di sporcizia e degrado favoriscono le incursioni e la proliferazione dei topi. A questo proposito c'è da dire che è iniziato un intervento di derattizzazione, anche se i risultati ancora non si vedono. Innanzitutto ritengo una battuta che i topi ci sono sempre stati. Noi abbiamo come amministrazione pubblicato un calendario di interventi che riguarda la derattizzazione e la disinfestazione. Un calendario dove è facilmente riscontrabile anche dai cittadini, dove è indicato orario, giorno e tipo di intervento per quello che riguarda la derattizzazione e la disinfestazione. Per quanto riguarda i rifiuti, riteniamo che nella parte nostra abbiamo inserito e installato le mini isole ecologiche per i commercianti. Sono cinque punti ai quali a ogni commerciante è stato assegnato un punto della città dove è situata la mini isola ecologica. Aumenteremo le mini isole ecologiche che da cinque passeranno a otto nel mese di settembre e poi abbiamo inserito e migliorato il calendario delle utenze sia domestiche che commerciali. Adesso ho un maggior senso di responsabilità e soprattutto di controllo. Credo che tutti questi elementi favoriscano un maggior rispetto delle regole ma soprattutto anche un decoro migliore della città di Sernia.